In 50.000 hanno sfilato a Roma lo scorso 28 marzo nel quartiere organizzato dai sindacati di base, CUB, Confederazione Cobas ed SDL, in occasione della riunione dei ministri del welfare del G14. Accanto ai lavoratori, studenti, disoccupati, centri sociali e comitati di lotta per la casa, per ribadire che la crisi deve essere pagata da chi l'ha causata. In tutta Europa le proteste si moltiplicano e a Londra, in occasione del G20, è in programma una settimana di contestazioni, per dire che è il modello economico neoliberista che va cambiato. E' un momento davvero di grande mobilitazione europea che segue al movimento greco che è stato di un'intensità senza precedenti e i movimenti studenteschi che sono un po' in atto in tutta Europa contro la guerra e contro la risoluzione della crisi che chi l'ha provocata vorrebbe di nuovo gestire. Noi che siamo escapati dalle miserie, alla ricerca di una serenità, visto che questi signori che oggi stanno parlando o domani parlano come G20, che sono cause di tutti i disgrazi del mondo, e stanno nascondendo tutto tramite l'immigrazione, buttando il fango sull'immigrazione per girare o mascherare la crisi. Questa crisi che loro hanno causato è la caduta libera del liberalismo, che è una politica sbagliata, abbiamo detto da tempo, però quello che mi fa male è vedendo i cittadini che non se non fregono, chiediti che non se non fregono, così pensando che ognuno potrà salvare la sua cabana. E invece qua si salva soltanto a stare insieme. Il 28 è il culmine delle mobilitazioni fatte nelle varie regioni ed è una grandissima giornata che è venuta qui a ricordare ai grandi del mondo, il G14, i problemi dei lavoratori. Vogliamo che per quanto riguarda il lavoro ci sia un blocco dei licenziamenti, vogliamo che ci sia la cassa integrazione comunque all'80%, questo continueremo a ribadirlo, che ci sia una moratoria sui mutui e che ci sia una ridistribuzione di case ai lavoratori che in questo momento non hanno più la forza di reggere questi prezzi. La maggior parte dei lavoratori immigrati non credono più ai confederali, cioè i Cigli al Chiesewil, che hanno abbassato la guardia sui diritti fondamentali anche degli immigrati. Recentemente abbiamo notato che loro hanno scaricato tutti i lavoratori immigrati, la maggior parte sono andati in casa integrazione, altri sono andati in mobilità e avranno tante difficoltà per rinnovare i permessi di soggiorno. L'unica esperanza che abbiamo adesso è sui sindacati di base. Dentro la piattaforma penso che ci siano tutti i punti che qualsiasi lavoratore, qualsiasi precario, qualsiasi migrante ha oggi sulla punta della lingua. C'è la precarietà, c'è un welfare che è ormai quasi distrutto, c'è una crisi che noi continuiamo a dire che non la vogliamo pagare, ma purtroppo la stiamo pagando. Brunetta, Sacconi, Berlusconi, siete voi i veri fannulloni! Questo è Elmi? Il ministro della Funzione Pubblica, dove sta Brunetta, il fannullone, quello delle faccine, faccina gialla, faccina verde, faccina rossa e faccina la fannullone, che è la sua. La scuola non è colpita dalla crisi, però dai tagli del ministro dell'istruzione sì. Sicuramente perché questa crisi è in realtà l'effetto nel fatto che l'impresa, il mondo finanziario hanno ormai saccheggiato tutte le risorse del paese, adesso avendo mangiato tutto quanto in termini di profitti vanno a vedere quello che è rimasto. Cosa è rimasto? Quello che è stato costruito con il sudore, con il lavoro, con i soldi accumulati dai lavoratori e tra questi c'è anche il reddito che è costruito dalla scuola, dalla sanità, dalle pensioni. Quindi si saccheggia la scuola per poter aumentare e garantire l'entità dei profitti di banche e imprese. Questo lo vediamo soprattutto in termini di tagli. Ci saranno qualcosa come 150.000 tagli in tre anni. E qui in questo spezzone potete vedere le facce dei precari che Berlusconi dice che non esistono, che non ci saranno licenziati. Queste persone non avranno molto probabilmente il rinnovo dell'incarico l'anno prossimo. Molti di loro sono precari da dieci anni, quindi non si tratta di flessibilità ma di un precariato strutturale che ha portato grossi vantaggi economici all'amministrazione, perché non gli viene pagata l'estate, perché non gli vengono pagati i permessi, perché rimangono al palo come stipendio. Precario è un reato assunti. Io sono una dei 130.000 lavoratori precari della scuola che con i tagli di questo governo, ma già avviati dal precedente governo Prodi, resteranno a casa. Quindi siamo destinati a diventare disoccupati. Il lavoratore precario non ha nemmeno bisogno di essere licenziato, basta semplicemente non rinnovargli il contratto. Ora, come si ottiene questo taglio di posti di lavoro? Per esempio nelle superiori dove insegno io si ottiene creando delle classi che abbiano un minimo 27 alunni. Quindi al di là di quello che subiamo noi come lavoratori immediatamente con la disoccupazione, anche la qualità dell'istruzione per gli studenti, per i figli dei lavoratori sarà sempre più scadente e questo andrà a vantaggio delle scuole private. Tagliare la qualità di questa scuola vuol dire ridurre di molto le possibilità dei figli dei lavoratori. È per questo che noi crediamo, come lavoratori precari della scuola, che l'unica strada possibile sia quella della lotta ad oltranza fino alla cacciata della Germina, e alla cacciata di questo governo è al ritiro di tutti i provvedimenti sulla scuola, non ci sono altre strade possibili. Oggi in piazza distribuzione gratuita e la paletta dell'ordinista... L'attacco più grave che stiamo subendo, secondo il nostro modo di vedere, io sono un RLS del settore trasporto, quindi dei macchinisti in Emilia Romagna, è quello di togliere un macchinista alla guida dei treni. Questo è anticostituzionale, si può commettere un reato quando si toglie una sicurezza. Abbiamo un nostro rappresentante dei lavoratori per la sicurezza licenziato perché ha detto che i pendolini forse si possono spezzare. Si sono spezzati ancora dopo la prima volta che lui ha fatto questa affermazione, rimane placidamente licenziato. Lavoro in un call center, uno dei tanti call center che ha visto il degrado in questi ultimi dieci anni di lavoro per le condizioni contrattuali e il clima di lavoro. Sono qui a Roma per difendere un diritto garantito dalla Costituzione che è assegnato a ogni singolo lavoratore, non alle sigle sindacali, cioè il diritto di sciopero. Visto che in questo Paese si privilegia il conflitto sociale come strumento di trasformazione della società, se si toglie questo diritto e lo si imbriglia con una serie di regole, non avremo nessuno strumento di rivendicazione. Per quanto riguarda il diritto di sciopero, siete sotto attacco anche su questo? Quello di cui si parla in questi giorni è una legge fatta su misura per i ferroieri che non possono e non sono riusciti a scioperare per ben un anno. Quando la crisi si fa dura e quando si pensa a una risposta energica dei lavoratori è chiaro che vengono meno alcuni diritti, alcune prerogative. Primo fra tutti quello del diritto di sciopero che oggi potrebbe colpire pesantemente i trasporti, anzi direi che lo sta già colpendo perché di fatto gli scioperi vengono regolarmente vietati anche prima della nuova legge. Ma poi ci sono i diritti fondamentali che un accordo fatto da Cislequillo sulla contrattazione sta facendo venire meno complessivamente sia in termini di rappresentanza sia in termini di valenza e importanza del contratto nazionale. I sindacati di base sono riusciti ad aggirare il cosiddetto protocollo anticortei che impone molte limitazioni alla possibilità di manifestare nella capitale. Voluto dalle manno e firmato dai sindacati confederali e da tutti i partiti esclusa la sinistra radicale, prevede solo sei percorsi per i cortei tutti a debita distanza dalle sedi istituzionali. Quel protocollo non ha alcun valore legale né alcun valore costituzionale la Costituzione prevede nell'articolo 17 l'assoluta libertà di manifestare l'unico vincolo che pone è la notifica all'autorità di polizia della manifestazione la polizia o l'autorità di polizia può intervenire soltanto nel caso che ci siano fondati motivi di sicurezza. Tra l'altro chi l'ha firmato non lo rispetta perché per esempio il 4 aprile prossimo la CGL farà 5 cortei a Roma per confluire al Circo Massimo nessuno di questi 5 cortei rientra nei 6 cortei proposti dal protocollo. Il protocollo è stato usato però per caricare prima gli studenti e per vedere se si poteva prima a Roma e poi in altre città limitare il diritto di manifestare esattamente come vogliono limitare il diritto di sciopero. La crisi noi non la paghiamo perché l'onda è tornata! Il 28 siamo stati in piazza anche noi perché la crisi colpisce anche gli studenti in quanto gli studenti per continuare a studiare sono costretti naturalmente anche a lavorare vivono sulla loro pelle e la condizione della precarietà la vivono in continuazione. Era molto importante per noi ribadire il fatto che gli studenti dell'università partano da Piazzale Aldomoro anche per rendere carta straccia quel protocollo firmato dal sindaco, dal prefetto e non solo da molte delle forze politiche anche della sinistra. Pensiamo che comunque scioperare voglio dire anche bloccare la viabilità, bloccare le strade e bloccare la produzione. Al fianco dei lavoratori e come tutti quanti abbiamo voluto dire che questo G14 che decide sulle teste di molti deve prendere in considerazione che studenti e precari chiedono diritti, chiedono welfare, chiedono il reddito e chiedono appunto che sia tenuto in considerazione che le condizioni materiali e che la crisi ricade su quei soggetti che in realtà non l'hanno prodotta e che quindi non la vogliono pagare.